Le scosse sismiche degli ultimi giorni hanno preoccupato non poco i cittadini del territorio flegreo. A destare infatti maggiori preoccupazioni sono gli appartamenti, molti dei quali ritenuti non sicuri. Si ha la luce degli ultimi eventi sismici, si sente sicura nel suo edificio? Assolutamente no, anche perché sono edifici che hanno bisogno comunque di lavori e attualmente oggi, nel nostro caso, insomma, gli eventi che stanno succedendo noi già avevamo fatto anche richiesta per fare i lavori agli edifici, agli alloggi alla quale noi viviamo. Per niente, ci sentiamo solo di reti continuo e tutto sotto controllo, stiamo valutando la situazione però non ci sentiamo sicuri, abbiamo paura perché gli eventi sismici aumentano sempre di più, le scosse sono sempre più forti. Assolutamente no, ci dicono dell'alert di avvertimento, tra parentesi non l'ho avuto sul mio cellulare, ci dicono di un piano di evacuazione, non so dove dobbiamo andare, assolutamente no. Mi fa paura questa cosa perché non mi sento tranquilla. Tutti che dicono è iniziata ad andare via da qualche parte, ma dove e come mantenerti? Con il lavoro, con la nostra vita a casa, siamo impauriti. Qui a Montruscello siamo più sicuri di Pottuolo Centro, questo è il problema. Si sentono però siamo più tranquilli qua. La sicurezza la vogliamo sicura e poi ci hanno fatto sapere che può succedere tutte queste cose. Certo, noi vogliamo la sicurezza. No, sicuri no, però siamo abbandonati di tutto, di pulizia, di manutenzione, di tutto. Ci sono palazzi e dove abito io che stanno cadendo a pezzi.